Da qualche giorno si sente parlare di smaltimento, di rifiuti cimiteriali effettuato in maniera abusiva. Qui siamo con il responsabile della polizia cimiteriale, Carmi Lepre, che sta indagando rispetto alla cosa. E allora, a che punto siamo con le indagini? Le indagini stanno procedendo anche abbastanza bene. Probabilmente nei prossimi giorni si faranno i nomi di altre persone che sono coinvolti in questa brutta faccenda cittadina. Ci racconti un po' in che modo sono effettuate questi smaltimenti di rifiuti cimiteriali, quindi speciali? Sì, noi inizialmente abbiamo avuto sentore che in alcuni cimiteri privati le cose non andavano per il resto giusto. Abbiamo iniziato ad indagare e siamo arrivati al punto di capire che tutte le sommazioni avvenivano in modo illegale. Nel senso che questi rifiuti scomparivano letteralmente e pigliavano una via che non era delle più tradizionali. Nel senso che una ditta che opera nel comune di Napoli e che è abilitata a fare solo questo, veniva forse indebitamente coinvolta in questa situazione. Poi per il momento ci dobbiamo fermare qui perché la cosa sta al vaglio della magistratura e avrà un grosso eco. Quali sono i risultati che per il momento avete perseguito? Attualmente abbiamo denunziato il responsabile di una ditta che era allocata all'interno di questo cimitero. Andrea Santoro, qual è l'auspicio per questa investigazione riguardo lo smaltimento di rifiuti cimiteriali effettuato in maniera abusiva? Io credo che innanzitutto vada riconosciuto l'ottimo lavoro che il nucleo di polizia cimiteriale della Polizia Municipale di Napoli, coordinato dal Tenente Lepre, sta facendo. Ha permesso di evidenziare un ulteriore segmento della vicenda dello smaltimento dei rifiuti cimiteriali. Grazie a tutti.